Dall'8 gennaio all'8 luglio, compie sei mesi di attività la Trattoria Sociale Utopia al Parco Miralfiore. Dopo l'esperimento estivo del 2023 all'alberghiero Santa Marta, si tratta della seconda scommessa vinta dal progetto Utopia che consolida ulteriormente la realtà di lavoro inclusivo pesarese. Mezzo anno di attività celebrato con una festa, con sguardo rivolto a quanto realizzato finora e ai progetti da poter ancora mettere in cantiere. Sei mesi bellissimi e l'attività funziona, Trattoria Sociale Bar al Parco Miralfiore funziona perché dà lavoro a 29 ragazzi. Da parte delle famiglie c'è tanta contentezza perché vedono i loro figli proprio contenti e soddisfatti del loro lavoro anche perché ad oggi 29 ragazzi hanno già ricevuto un contratto a tempo determinato e quindi è una soddisfazione sia per il ragazzo che per la famiglia e quindi i genitori ci appoggiano nel progetto aiutandoci come volontari anche nel ristorante. C'è la soddisfazione di essere riusciti a ridare vita al Parco Miralfiore, è un contributo decisivo, devo dire, l'ha dato il progetto Utopia nella gestione del bar che ha garantito un'apertura quotidiana dalle 7 della mattina fino alle 11 mezzanotte. C'è sempre tanta gente, ha creato grande curiosità sia per i cittadini pesaresi che per quelli che vengono da fuori. E in più ha dato grandi opportunità alle famiglie con ragazzi disabili in casa di uscire, di sentirsi importante, di lavorare e di interagire quotidianamente con le persone, di dare un servizio, un servizio importante e avere la gente al Parco Miralfiore nei mesi di luglio, agosto, alla sera è una scommessa vincente per una città di mare. La Regione Marche guarda con grande interesse questo progetto che è un progetto che nasce a Pesaro, che può essere esportato ma che può crescere grazie alla collaborazione della filiera istituzionale anche e soprattutto in questo territorio laddove è nato. Quindi noi ci siamo, lo stiamo dimostrando, siamo al fianco di chi gestisce questa vera e propria impresa sociale, siamo al fianco delle famiglie, siamo al fianco dei ragazzi. Ho ascoltato molte idee da parte di chi gestisce questa realtà di inclusione e se avremo la possibilità daremo una mano a questa struttura. Il progetto di lavoro inclusivo ha aperto la strada a nuove richieste di partecipazione alle quali Utopia risponde apparecchiando nuove opportunità. La più ambiziosa in dialogo con la Regione Marche punta al bando per il recupero e la trasformazione dell'ex ostello di Fosso Seiore. Quello che sarà, penso, tra un anno l'apertura del più grande ristorante e pizzeria della Regione Marche che è sito da ragazzi con disabilità. E poi c'è un altro progetto già in rampa di lancio per settembre. Mancano due mesi, l'apertura del vivaio Pantanelli. Il primo settembre Utopia con un nuovo progetto che si chiamerà Pantarei con il Cecchi e andremo a gestire questo vivaio che è il più grande della nostra provincia. Lo renderemo a dargli vita ulteriore e un nuovo passo dove pensiamo di inserire circa 40 ragazzi con disabilità che vengono tutta la provincia. Un successo, un grazie a chi ci ha creduto e a tutti quanti che sostengono ancora Utopia e il progetto dei ragazzi.